buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale eccoci qua con un nuovo video sono mancata per qualche settimana sul canale oggi sto registrando con un bel vento fuori quindi se sentite un po di non sono fantasmi ma è il vento fuori prima di iniziare se ancora non l'aveste fatto come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdervi mai più un mio nuovo video vi faccio vedere tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo di mia assenza sul canale ma non di assenza per quanto riguarda lo shopping del makeup è una cosa che poi vi farò rivedere in un video dedicato diciamo mi sono arrivati dall'azienda due iu brushes che non so se riuscirete a vedere qua in il rilievo forse non so se si lega qualche scritto due a io dei pennelli quindi se siete alla ricerca di pennelli low cost di buona qualità io ve li straconsiglio vi lascerò ovviamente in info box il link per acquistare questi pennelli le spedizioni comunque in realtà sono velocissime perché spediscono via amazon nonostante non siano un brand italiano sono rivenditori amazon quindi nel giro di solito di 1 o 2 giorni vi arriva tutto a casa mi hanno fatto scegliere un set in realtà il set che vi faccio vedere non è quello che ho scelto io hanno scelto poi loro quale inviarmi la maggior parte dei set hanno questa fantasia diciamo marmorizzata avevo scelto un'altra custodia però diciamo che comunque queste pochettine qui sono sempre sempre utili perché se andiamo in viaggio o comunque in generale sempre meglio tenere i pennelli lontani dal dal make up del resto del make up allora questo set aveva 6 pennelli viso e a 9 pennelli occhi più una spugnetta di questo in silicone quindi totale sono 15 pezzi più la spugnetta allora questa è una spugnetta di silicone che può piacere come non piacere ho fatto un periodo in cui l'ho utilizzata in generale non amo questo tipo di prodotto preferisco di gran lunga le beauty blender o le spugnette in generale poi abbiamo adesso li faccio vedere così velocemente poi appunto faremo un video in cui li testiamo insieme io li ho già testati infatti alcuni li ho appena lavati sono proprio bagnati in questo momento però per farvele vedere e sono dei pennelli molto molto validi non perdono i pelucchi e sono molto morbidi hanno una buona stesura sul viso comunque appunto ve li mostrerò nel dettaglio quindi abbiamo allora un pennello di questo tipo con le setole abbastanza fitte in questo momento appunto è bagnato ma sono fitte in questo modo questo è un pennello da fondotinta l'ho anche lavato male se vi può interessare quindi essendo appunto molto molto fitto va benissimo per la stesura di fondotinta ora vi dico quali sono le per cosa li utilizzerei io poi ognuno può usare i pennelli come meglio crede ovviamente poi abbiamo un pennello da bronzer io vi direi perché poi ne abbiamo anche un altro che è più grande ma questo ve lo consiglio di più per la cipria quindi bronzer cipria questi due pennelli tutti con appunto il manico sempre in plastica però con questa fantasia marmorizzata questo è un classico pennello a ventaglio da illuminante che io non è la tipologia di pennelli che amo perché non uso questi quella tipologia di pennelli per il illuminante un pennello di questo tipo un po angolatino che io uso solitamente per il blush però anche per fare contouring essendo così angolato può andare benissimo e infine un pennello a lingua di gatto per il viso che è indicato per la stesura del fondotinta io non lo amo perché lascia sempre un sacco di striature ma in generale il pennello non lo amo per applicare appunto il fondotinta poi sono sempre dei gusti del tutto personali però appunto questo è indicato per la stesura del fondotinta poi abbiamo pennelli invece occhi in questo caso un pennello fatto così per andare a pettinare le sopracciglia anche questo non è una tipologia di pennello che io personalmente vado ad utilizzare perché preferisco gli scovolini per andare a pettinare però magari qualcuno lo usa poi abbiamo un pennellino di questa tipologia qui quindi super super piccolino che io uso di solito nell'angolo interno dell'occhio per mettere il colore chiaro un pennello angolato per diciamo le sopracciglia o anche per fare degli eyeliner poi abbiamo ancora dei pennelli a lingua di gatto quindi uno un pochino più piccolo di questo tipo per applicare appunto lo shimmer sulla palpebra mobile e uno un pochino più grande da utilizzare nello stesso modo o anche per andare a sfumare magari il correttore se siete soliti utilizzare dei pennelli un altro uno che è da sfumatura in questo modo però è un pochino piatto non è particolarmente bombato comunque è da sfumatura un po' più da precisione diciamo poi abbiamo uno classico da sfumatura che invece è più bombatino come vedete ha le setole più più fitte questo è il mio pennello preferito per fare le sfumature uno sempre da sfumatura però piccolino piccolino per appunto andare a sfumare con più precisione e infine una penna quelli a penna io li utilizzo principalmente per il colore all'angolo esterno dell'occhio o anche nella rima inferiore quindi questi sono i pennelli questo quindi appunto è il set che vi arriva appunto con questa pochette è in vendita su Amazon a 9,99€ quindi praticamente 15 pennelli più una spugnetta a 9,99€ è io vi direi un affare se appunto cercate dei pennelli low cost e di buona qualità vi lascio comunque il link per questi prodotti nell'info box che poi proveremo appunto in un video e ci sono tantissimi altri set ovviamente potete anche scegliere un set dove non c'è la spugnetta dove c'è proprio la confezione magari da viaggio una confezione da tenere proprio come porta pennelli ci sono tantissimi quindi vi lascio appunto il link e ringrazio tantissimo Duayu Brushes per avermi inviato questi pennelli da provare allora ho fatto un ordine su Look Fantastic perché negli ultimi tempi ho capito che preferisco spendere su Look Fantastic piuttosto che su Sephora è vero che i tempi di spedizione sono un pochino più lunghi ma poi dipende perché Look Fantastic ha due magazzini uno europeo e uno extra europeo da cui mando i prodotti se prendete prodotti dal magazzino europeo nel giro di 3-4 giorni sono a casa vostra in quello extra europeo magari passa una settimana però diciamo che se non avete la fretta di avere i prodotti spendete sicuramente di meno su Look Fantastic perché i prezzi di partenza rispetto a Sephora sono già più bassi e poi ci sono tanti influencer che hanno codici sconto da potervi dare utilizzare su Look Fantastic per risparmiare ancora di più questo è il mio caso io per esempio ho usato il codice di Liquors Beauty per Look Fantastic acquisto sempre con il suo codice ho acquistato l'ordine è partito per questa la Prime and Poreless Plus di Too Faced questa l'ho vista e rivista ne hanno parlato tantissimo molti molti influencer perché dicono che è tipo un filtro sul viso il pack è questo molto molto bello curato nei dettagli la cipria è questa ora la cipria è questa so che non vedete ma qui c'è scritto Prime and Poreless ora nella mia già non si vede più ma questi sono dettagli è una cipria traslucida trasparente come vedete non rilascia neanche particolarmente colore molto molto sottile va a levigare tantissimo la pelle ed è proprio come un filtro diciamo vi va a levigare ridurre i pori e tutto quanto al di sotto ok alzando se riesco a non rompere la cipria perché se la graffio mi arrabbio alzando qui sotto avete questo puff di Too Faced fatto a qui vicino per poter appunto applicare la cipria con la manina se siete solite farlo sempre di Too Faced ho detto già che c'ero facciamo spese folli ho preso la Milk Chocolate Soleil che è questo bronzer io ho preso ci sono diverse colorazioni io ho preso quella più chiara che è in questo pack super super carino e la terra è questa sempre con l'incisione anche lei è una polvere super super sottile e niente la uso per andare a scolpire il viso come vedete è molto molto delicata non è neanche particolarmente calda sempre di Too Faced per restare appunto in tema ho comprato ho voluto provare questa mini del primer hangover di Too Faced è un primer teoricamente diverso da quelli che piacciono a me ve lo faccio vedere intanto questa è una mini penso perché sono 20 ml non credo che il primer a meno che non sia non lo so comunque questo devo averlo pagato sui 10 euro all'interno è così quindi ha la pompetta per erogare il prodotto è a base di acqua di cocco senza siliconi è un primer sostanzialmente idratante e vi va a diciamo fare quell'effetto blur alla pelle a rimpolpare un pochino la pelle ecco quindi questo è il primer in più praticamente su Look Fantastic io in realtà avevo fatto un acquisto anche di un set di Smashbox perché non ho mai provato nulla di Smashbox c'era un bellissimo set che costava forse 20 euro per di primer viso, setting spray così giusto per provare un pochino alla fine dopo aver aspettato vario vario tempo questo set non è arrivato mi è arrivato appunto un rimborso perché non era più disponibile però spendendo mi pare 58 euro con Too Faced avevo un regalo in omaggio quindi mi hanno regalato il Better Than Sex di Too Faced in un'edizione limitata che io amo quindi penso che al momento in cui lo finirò non lo butterò non lo butterò perché è veramente particolare il pack è questo con tutte le pesche non so se riuscite a vederle queste peschettine piccoline molto molto bello ha il peso specifico del piombo quindi però sono stata super contenta appunto è sempre gradito ricevere dei regali insomma con gli ordini e in più avevo anche in omaggio una mini size del Perversion Mascara di Urban Decay quindi mi è arrivato appunto anche il Perversion Mascara di Urban Decay che ho provato due volte la prima volta non mi è piaciuto la seconda volta già di più come scovolino in realtà mi piace non ha un odore gradevole ma in realtà non è che bisognerebbe non usare Mascara è una mia fissa quindi continuerò a provarlo e vi farò sapere se mi piace poi invece sto andando qua in giro nei negozi di Acqua e Sapore principalmente e Lillapua perché ho notato che ci sono sempre un sacco di promozioni io non andavo mai in questi negozi ma ultimamente ho visto che ci sono tanti prodotti scontati e quindi ne ho approfittato ho comprato ad esempio un fondotinta che io non avevo mai provato Super Stay 24 Ore Full Coverage Foundation di Maybelline quindi ho comprato lui il colore è 30 Sand e l'ho comprato praticamente in combo con il Face Studio Prime sempre di Maybelline un Pore Minimizing Primer che è questo qui consistenza Pore Filler di Benefit un pochino più leggero comunque molto siliconico e insieme li ho pagati 9,90 euro mi pare o 10,90 comunque una stupidaggine perché di solito questo fondotinta il fondotinta di Maybelline di L'Oreal costano circa già da soli sui 13-14 euro se non di più quindi super super a fare anche perché di questo hanno rifatto il pack e anche la formula in teoria anche se ho sentito che non cambia molto quindi lo sto provando quindi questi li ho pagati 10,90 se non mi sbaglio sempre da Acqua e Sapone ho acquistato anche un fondotinta di Deborah Deborah Milano che è il 24 Ore Extra Cover fondotinta 2 in 1 quindi fondotinta più correttore con anche SPF 15 con Pore Minimizer quindi top e ho preso il colore 01 quindi questo qui ha l'applicatore come il fondotinta di Revolution quindi con l'applicatore e come vedete questo è come vedete aspettate come vedete questo in realtà è più il mio colore adesso mi sta così già truccata con bronzi eccetera eccetera non si direbbe ma anche questo ossida e insieme c'era questo primer che è il Face Perfect Primer è una base trucco anti lucidità speciale zona T levigante e uniformante questo ancora non l'ho provato perché era chiuso e siccome ho 300.000 primer aperti volevo evitare di aprirne un altro che se no va a finire che avendo una scadenza li devo buttare quindi questo è ancora chiuso con la sua plastichina e questi due insieme li ho pagati 9,90 euro quindi super vero che Deborah non costa tantissimo però comunque intanto il colore del fondotinta si è ossidato e come vedete non è più bianco cadavere come prima sempre da acqua e sapone incredibilmente ho comprato anche il L'Oreal Infaible 24 Hour Freshwear questo qua questo sempre super super chiacchierato e l'ho pagato 5 euro questo fondotinta costerebbe 20 qualcosa l'ho pagato solo 5 euro il mio colore qua è il 100 e non so perché fosse in sconto onestamente perché non credo che stiano rifacendo il pack perché il negozio ho visto gli altri che non erano in sconto c'erano solo alcune colorazioni tra le più chiare la 100 la 200 e qualcosa e quindi io l'ho acquistato perché non l'avevo mai provato e volevo volevo provarlo vi faccio vedere anche questo colore questo è ha una texture più liquida rispetto agli altri agli altri due che vi ho mostrato prima e il colore è questo tipo questo non è un fondotinta super coprente quindi penso che lo potrò utilizzare anche d'estate e se è leggermente più scuro va benissimo poi sempre quando ho comprato queste cose da Acqua e Sapone ho comprato due rossetti a 2 euro l'uno uno è di Rimmel London quindi questo qui nel colore 100 Nude Shock Moisture Renew non so se è il nome proprio del rossetto e il colore del rossetto è questo è diciamo un rosato nude rosato quindi questo colore qui non è matte praticamente è il colore delle mie labbra non lo non lo uso mai in questo modo come vi sto facendo vedere adesso di solito lo uso al centro delle labbra perché così secondo me è troppo chiaro ho comprato uno di Debbie questo qua sempre a 2 euro nel colore 23 Ancient Rose che è invece più malva un colore più da me diciamo più simile a quelli che che mi vedete comprare di solito eccolo quindi rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima è appunto più scuro da Lillapuant ho comprato solo 3 cosine ho comprato un rossetto di Essence che è lo 09 special della linea This Is Me dovrebbe essere il colore è questo qui quindi un nude molto molto chiaro questo penso sia il mio preferito tra quelli che vi ho fatto vedere fino ad adesso l'ho comprato oggi a 2 euro e 20 circa perché era scontato ok quindi quello che ho messo adesso è lo 09 This Is Me anche qui dipende un po' dal look che si fa mi potrebbe anche piacere come colore è leggermente chiaro ma l'ho preso appositamente proprio da mettere al centro delle labbra quindi 2 euro e 20 questo colorino di Essence ho comprato l'Essence Stay All Day 16 ore questo qui io lo avevo già allora prima la versione era così in plastica adesso è in vetro questo era waterproof e long lasting questo invece è senza siliconi senza particelle plastiche va bene senza oli rimane waterproof quindi impermeabile e dura tutto il giorno leggero setoso ad alta ad alta coprenza onestamente io non me lo ricordo ad alta coprenza però può essere appunto cambiando la formula ora vi farò vedere che era un fondotinta di per sé super liquido e neanche opaco particolarmente opaco quindi sicuramente sarà cambiata la formula e devono avere anche cambiato le colorazioni nel senso che qua io avevo preso la 20 soft nude di quello nuovo ho comprato la 8 soft vanilla perché c'erano altre due colorazioni prima di questa se non mi sbaglio ed erano molto molto chiare dopo la 8 c'era subito la 20 che era appunto era soft beige la colorazione dopo questa ma era veramente scura questa l'ho provata sulla mano ho aspettato e secondo me è perfetta almeno per adesso poi ovviamente in estate sarà più idonea questa l'ho pagato 4,89 euro l'ultima cosa che ho comprato oggi da acqua e sapone è questo fondotinta di rimmel london lasting finish di rimmel con spf 20 full coverage ok il colore che ho preso è il 103 true ivory ho pagato 9,90 euro fondotinta più questo che cos'è più il correttore allora non amo questa tipologia di correttori così però lo proverò perché non si può mai sapere quindi questo è un fondotinta lunga tenuta fino a 25 ore massima idratazione ok ne ho sentito parlare veramente bene quindi ho voluto comprarlo non so se è il fondotinta adatto a me nel senso che non ho una grande necessità di idratazione soprattutto nel periodo che arriverà quindi quello dell'estate in cui la mia pelle diventa più grassa però non penso che lo aprirò insomma adesso perché ho un sacco di fondotinta aperti ragazzi non potete neanche immaginare perché usando la mascherina sto comprando solo ed esclusivamente fondotinta cioè palette rossetti veramente pochi cioè mi sono fissata su fondotinta rimmel avevo già ho già il match perfection quindi questo è lasting finish e io avevo già il match perfection questo praticamente è finito questo è aperto che se vi ricordate l'aneddoto io comprai il 100 ivory che è praticamente quasi finito per fortuna anche perché sto scrivendo non so se vedete a lato quando apro i prodotti questo l'ho aperto a maggio 2020 siamo a aprile 2021 dura 18 mesi quindi siamo ampiamente nel nel tempo però vorrei cercare di non tenerli troppo troppo tempo rispetto a quando li apro quindi sto cercando di scrivermelo questo ad esempio l'ho comprato a dicembre 2020 anche lui scade tra 18 no questo 20 qua quindi sono rimasta male non so come sia possibile ma il fondotinta è lo stesso e questo aperto il 5 quindi a maggio 2020 ha 18 mesi di PAO questo che è lo stesso prodotto aperto a dicembre 2020 ha 24 mesi di PAO va bene stesso prodotto ma va bene comunque siamo ampiamente nel tempo non so se vi ricordate l'aneddoto per cui questo lo comprai io tornai in negozio per comprare questo la commessa mi si avvicinò come fanno appunto sempre chiedendomi se avessi bisogno di aiuto e io le dissi guardi l'ho già preso quindi prendo appunto il 100 Ivory e lei mi disse ma no tu hai una carnagione olivastra per te va meglio il 200 soft beige la differenza direi che è notevole notevole e non ero neanche abbronzata perché era dicembre 2020 quindi non ero abbronzata in quel periodo però lei mi consigliò questo oggi ero appunto nel negozio c'era il 103 questo è il 100 vi ricordo questo è il 103 o il 200 per scrupolo ho fermato la commessa e le dissi quale secondo te è meglio per me e lei mi disse gli ho chiesto guarda non so se ossidano quindi li ho provati sulla mano le ha detto sì sì un pochino comunque sicuramente per te va meglio il 100 perché il 200 è troppo scuro quindi l'altra volta questo lo comprai da Lillapuà questo l'ho comprato da Acqua e Sapone quindi da Lillapuà non mi fiderò mai più però questa ragazza è stata appunto brava e mi ha consigliato la colorazione giusta anche poi per una questione di correttore secondo me due ore che parlo ma vi ho detto li ho pagati 9,90 euro insieme anche per una questione di correttore se avessi comprato il 200 anche il correttore sarebbe stato sicuramente scuro perché questo è già il Sand 002 quindi a me piacciono i correttori come vi dico sempre chiari quindi ok il correttore questo qua il correttore va benissimo come colorazione devo capire un po' la texture sembra abbastanza strong non amo i correttori in stick solitamente ma sono curiosa di provarlo quindi questo per ora non lo apro e lo tengo lì quindi questi praticamente erano tutti i miei acquisti di questo periodo di questi ultimi mesi anche se no vi avevo fatti vedere e nulla fatemi sapere se anche voi avete comprato qualcosa in questo periodo se avete già provato qualcuno dei prodotti che vi ho fatto vedere io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo prestissimo si spera con un nuovo video ciao ciao